Dall'idea di due amici, Roberto e Angelo, nasce Passione Bici, rivenditori ufficiali di Olimpia e Gusto. Da noi potete trovare biciclette ed e-bike per tutte le età. Inoltre abbiamo abbigliamento specifico, X-Tech, Gist, Spiuk, accessori, ricambi e un'officina specializzata. Forniamo servizio di ritiro e riconsegna a domicilio. Vieni a trovarci a Vallefoglia. Grazie.